Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial per Tableau. Oggi vedremo come ordinare i dati. Apriamo come al solito il nostro file Superstore Europa. Prendiamo la tabella ordini e apriamo un nuovo foglio. Allora, iniziamo con costruire un semplice grafico a barre. Prendiamo le vendite e prendiamo lo stato. Allora, Tableau ci mette a disposizione diversi strumenti per ordinare i dati. Il primo e probabilmente anche il più semplice è quello di agire qui, sull'asse. Vedete che se mettiamo il mouse viene questa iconcina a forma di scaletta. Se clicchiamo una volta eseguiamo un ordinamento decrescente. Una seconda volta lo facciamo crescente. E una terza volta annulliamo l'ordinamento. Considerato che sull'asse del X abbiamo messo le vendite, quando noi andiamo a cliccare qui andiamo a fare un ordinamento in base alle vendite. Quindi stiamo ordinando il country, il paese, in base alle vendite. Ora, prendiamo un'altra misura, ad esempio il profitto, e lo mettiamo nel colore. Come facciamo se vogliamo ordinare i nostri dati in base al profitto, che quindi non è sull'asse delle X, non è presente qui nelle nostre colonne? Ci basterà, se noi proviamo a cliccare con il tasto destro, vediamo che non abbiamo nessun menu per l'ordinamento. Ci basterà selezionare la somma dei profitti e utilizzare le iconcine qua nella varra dei menu. Così le abbiamo ordinate in base al profitto dal peggiore al migliore. Se riclicchiamo un'altra volta, in base al profitto dal maggiore al minore. Se vogliamo ordinare la nostra dimensione in base a una qualsiasi misura, che non deve essere per forza già inserita nel grafico, ma anche tra quelle che ancora non sono state usate, possiamo cliccare con il tasto destro, scegliere sort, e qui, a questo punto, potremmo scegliere tutte le voci che abbiamo tra i nostri dati. Ad esempio, vogliamo farle in base allo sconto decrescente, clicchiamo su Apply e ci viene fatto l'ordinamento. Molto bene, adesso cancelliamo l'ordinamento infatti finora. Possiamo rientrare nel menu e semplicemente cliccare qua su Clear, oppure possiamo anche venire qua e scegliere Clear Source. E aggiungiamo la regione al nostro grafico. Il tablo ci dà anche la possibilità di trascinare manualmente gli elementi all'interno del grafico per ordinarli. Ad esempio, se io volessi il nord, centro e sud, lo trascino e semplicemente mi viene cambiato l'ordine. Se la regione la mettiamo anche nel colore, posso farlo da qui o posso farlo direttamente da qui, è la stessa identica cosa. Ora proviamo a rendere un pochino più difficili le cose. Inseriamo, ad esempio, il nome del cliente nel nostro visualizzazione e cancelliamo tutto quanto. Cosa succede se io provo a utilizzare l'ordinamento veloce dell'asse? Che Tableau automaticamente mi fa l'ordine in base al customer name. Questo perché Tableau va in automatico a ordinare il dato che ha il livello più basso. Abbiamo la regione, nord, centro e sud. Abbiamo i country e ogni country fa parte di una regione. E abbiamo il customer name e ogni cliente fa parte di un country che a sua volta fa parte della regione. Quindi il dato con il livello di dettaglio più basso è il customer name. Quindi Tableau va a ordinare i dati in base a quest'ultimo. Quindi come posso fare, ad esempio, se io volessi scegliere un ordinamento diverso per ognuno di queste dimension? Dovano andare ad agire direttamente su una di loro. Ad esempio, la regione, voglio che il nord, che siano in ordine proprio nord, centro e sud. Ok. Il country. Voglio che me li dai in ordine decrescente in base alle vendite. Quindi avrò prima il paese che ha avuto più vendite e via via quelli che ne hanno avuti di meno. E il cliente, invece, voglio che me lo fai alfabetico, ascendente. Ed ecco che abbiamo ordinato, vedete, i tre campi in tre modi diversi. Quindi, ricapitolando. Se utilizziamo l'ordinamento veloce sull'asse, potremmo ordinare con il primo clic in modo decrescente, col secondo crescente, col terzo annullare l'ordinamento, ma solo in base alla misura che abbiamo messo su quell'asse. Se vogliamo utilizzare come ordinamento un'altra qualsiasi misura inserita nei colori, nelle dimensioni e comunque che abbiamo qui in questo pannellino dei mark, dovremmo selezionarla e poi utilizzare queste due icone. e sia in questo caso che in quello dell'ordinamento veloce, l'ordinamento va ad avere effetto sulla dimensione che ha il livello di dettaglio più basso. Se invece abbiamo bisogno di altri tipi di ordinamento, possiamo farlo a mano, trascinando i campi come li vogliamo noi. oppure se abbiamo bisogno di un tipo di ordinamento ancora più preciso, più elaborato, possiamo andare, cliccare con il destro, entrare nel menu e possiamo scegliere se ordinare la dimensione in base all'ordine alfabetico dei dati che contiene, manualmente, oppure scegliere un qualsiasi campo, una qualsiasi colonna presente nel nostro database, anche se non è ancora stata inserita all'interno del grafico. Bene, con questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!